Cari spettatori del cinevirus, si può fare un film soltanto con un camion, anzi un'autocisterna e un'automobile? Si può fare. Duel 1971, regia di Steven Spielberg. Spielberg lo conosciamo, è uno dei grandi maestri di quello che fu il nuovo cinema americano, fine anni Sessanta, inizio anni Settanta. È il primo film, il primo di una carriera che ha messo insieme degli straordinari congegni cinematografici capaci di tenere insieme la profondità del linguaggio cinematografico e la popolarità, colpire il cuore del pubblico. Duel. Duel è la storia di un inseguimento, molto semplice, un'autocisterna e una macchina. David Mann, il protagonista, Dennis Weaver, si mette al volante, David ci ricorda per contrapposizione Golia, Mann ci fa pensare metaforicamente all'uomo, viaggia con l'auto e a un certo punto si trova di fronte un'enorme autocisterna, la sorpassa e si mette con la sua andatura, ma a quel punto la cisterna lo sorpassa a sua volta e rallenta. Lui a quel punto fa un altro sorpasso, ma anche l'autocisterna a sua volta riparte, lo affianca suonando rumorosamente il clacson e gli si rimette davanti. Comincia così una storia che è un inseguimento, in cui a un certo punto, in un crescendo drammatico, David si rende conto che ha dietro di sé un serial killer, un autista folle, pazzo, che non vediamo mai. Vediamo soltanto a un certo punto gli stivali che vuole uccidere lui e distruggere la sua macchina. Arriveranno così inevitabilmente, come in un western, al duello finale, uno di fronte all'altro. E lì David Mann, irresoluto, timido, impaurito, avrà uno scatto che gli consentirà di salvarsi. È un film molto semplice, ma il crescendo di tensione con cui Spielberg carica e riempie lo schermo è straordinario, avvince, tiene seduti per tutto il tempo del film, angosciosamente. La colonna sonora. Beh, la colonna sonora è fatta sostanzialmente del clacson dell'autocisterna. In particolare, quando l'autocisterna alla fine rovinosamente precipita in una sorta di baratro distruttivo, si sente un lamento. Spielberg quel lamento lo ha estratto da un film di serie B degli anni 50 ed è il lamento di un dinosauro che sta morendo. Sovrappone clacson e lamento. Ora, io il lamento non ve lo posso fare, però vi posso fare il clacson.